40 amministratori piemontesi hanno partecipato a Palazzo Lascris alla giornata formativa organizzata dall'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa con la Consulta Europea. I lavori, divisi in due sessioni, hanno affrontato il tema del ruolo degli enti locali nelle politiche di asilo e accoglienza dei migranti.